Nel campo dell'affittoterapia una delle grandi richieste è di avere un prodotto completo che possa sicuramente soddisfare i bisogni per modulare il nostro sistema immunitario. Uno dei prodotti più interessanti usciti sul mercato in questi ultimi mesi è il Cell Immuni, un prodotto in grado di modulare il sistema immunitario, fare un'azione antivirale grazie alle specifiche azioni delle piante contenute in questo prodotto. 20 piante messe insieme in una maniera strategica, importante, modulate che si adattano alle specifiche esigenze della persona per aumentare e supportare il sistema immunitario con un'azione antivirale. Naturalmente è un nutraceutico, è un prodotto per supportare qualsiasi altra terapia, non è un farmaco, è un nutraceutico, un prodotto veramente straordinario, unico al mondo che trovate su www.cellfood.it www.cellfood.it